Si è svolto presso gli ospedali uniti dell'area Nolana la Santa Messa per celebrare la giornata mondiale del malato e della Madonna di Lourdes. Questo momento è stato veramente molto toccante e ha visto riuniti vari operatori sanitari e malati. La Chiesa in questo momento ci dimostra ancora di più la sua vicinanza e come è importante dare l'assistenza al malato, cercare di lenire la sua sofferenza proprio per dare il massimo da parte di tutti quanti, perché appunto il compito dell'operatore sanitario è strettamente correlato al compito anche della Chiesa di venire incontro a quelli che soffrono e che hanno bisogno di aiuto. Siamo qui riuniti nell'ospedale di Nola per celebrare la giornata dell'ammalato. Il nostro stare qui è come Chiesa per stare vicino agli ammalati e ai sofferenti, fargli sentire la nostra vicinanza perché loro hanno bisogno di ascolto, hanno bisogno di sentirsi parte integrante di una Chiesa che cammina insieme a loro. Come ha detto anche Papa Francesco nel suo messaggio, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Ecco, questo è il motto di questa giornata. Allora il nostro impegno è proprio di farci, il nostro impegno è proprio quello di stare accanto a chi ne ha bisogno perché attraverso l'ascolto e attraverso la vicinanza l'ammalato possa acquistare più presso la sua degnità di essere luce e sale del mondo. Grazie a tutti.